Qualche giocatore deve rifiatare perché ha disputato due partite con le nazionali e poi Champions League e campionato. I miei ragazzi hanno giocato cinque partite in due settimane, quindi qualcuno riposerà domani, ma poi deciderò comunque in giornata. Tutto ci può stare, posso sempre cambiare le scelte dei giocatori. Quel che cerchiamo di fare sempre è lottare al meglio e il più a lungo possibile. Se devi fare una scelta ti riservi di farla il più tardi possibile. La Coppa di Lega cade sempre in un periodo della stagione in cui devi prendere delle decisioni fra campionato, Champions League e altre competizioni che ovviamente vogliamo vincere. Io al momento vi sto dando un'opinione il più franca possibile su quelle che sono le mie priorità, poi certo nel mondo ideale uno vorrebbe vincere tutte e cinque le competizioni a cui partecipa. a cui partecipa con tutti i cinque le competizioni a cui partecipa.